Roberto Bordin qui per ricordare un amico, un calciatore, ma soprattutto una giornata dove ci sono tanti giovani e dare un messaggio per il futuro. Si è detto bene, un amico, un ragazzo veramente eccezionale, Carmelo ha un rapporto veramente molto bello con lui e lui con tutti quanti il resto della squadra, quindi un esempio molto importante da seguire, i valori che ha voluto lasciarci appunto Carmelo per così, per poter consegnare a questi giovani che ne hanno bisogno. Quest'anno sei stato ancora impegnato nel calcio, fortunatamente un'avventura abbastanza felice a Verona, qual è l'obiettivo della tua carriera? Arrivare comunque su una panchina, magari un giorno lontano sogni in Napoli? Beh, quello sarebbe un sogno veramente, penso, irraggiungibile per me, però ho avuto la fortuna di giocarci a Napoli, per me 4 anni molto belli e indimenticabili. Di sicuro far parte di uno staff tecnico quest'anno appunto a Verona è da qualche anno, sono con Mandorlini, ho messo 8 anni che siamo insieme, quindi per me è molto importante e sono già contento così. Quello è il ricordo più bello quando hai calcato il San Paolo, sei tornato qui in Napoli-Verona all'ultima di campionato, il ricordo più bello quando sei entrato, hai avuto qualche flashback, qualche dicevuto sul passato? Beh, sicuramente sì, poi ripercorrere il corridoio che ho portato ai spogliatoi, anche se sono un po' cambiati, un po' più moderni rispetto a qualche anno fa, di sicuro sempre emozionante. Grazie mille.